Presidente Marini, siamo in una fase cruciale del negoziato sulla prossima programmazione dei fondi strutturali. Si sta discutendo in Europa di quante risorse a mettere a disposizione di queste politiche di sviluppo e di come spenderle. Qual è la prospettiva delle regioni e delle città europee, alla luce del lavoro anche svolto sull'opinione del Comitato delle Regioni sul quadro strategico comunale? Intanto la politica di coesione e i fondi strutturali rappresentano lo strumento più importante che le regioni e le città hanno a disposizione per le politiche anche di sviluppo territoriale. È ovvio che questa discussione di negoziato della nuova programmazione non può non tener conto di un quadro straordinario e particolare che l'Europa sta vivendo e le città e gli stati d'Europa stanno vivendo. Quindi i fondi strutturali risentiranno anche in maniera molto forte di essere a disposizione di quella politica della crescita, della ripartenza dell'occupazione e dello sviluppo che è il cuore della grande questione europea in questo momento. E quindi regioni e città siamo anche molto preoccupate a salvaguardare uno strumento indispensabile per le politiche territoriali che sia adeguatamente finanziato perché per raggiungere anche quegli obiettivi della strategia di Europa 2020, quindi di un'area del mondo che investe molto nell'occupazione, nella qualità dello sviluppo, nella sostenibilità ambientale, negli investimenti e nella ricerca scientifica, abbiamo bisogno di risorse adeguate e di regole generali, quelle che stiamo discutendo ora, che ci permettano di intervenire concretamente anche sulle dinamiche di sviluppo locale e territoriale. Ecco, se la battaglia sul quante risorse stanno andando avanti, sul come è anche più complesso capire che cosa sta succedendo. C'è un tentativo della Commissione di concentrare le risorse su alcune grandi priorità condivise, che si scontra però con una richiesta di flessibilità da parte degli enti locali. Come trovare un equilibrio tra queste due spinte? Ma intanto sta difendendo il fatto che la politica di coesione è una politica europea comune ma a disposizione delle regioni e delle città e quindi noi vogliamo salvaguardare i programmi operativi, sia nella caratterizzazione nazionale ma soprattutto in quella regionale e territoriale e quindi anche la scelta della concentrazione tematica e delle priorità, pur nella strategia di Europa 2020, deve essere lasciata all'autonomia delle regioni e delle città. Perché abbiamo specificità, differenze che devono essere una risorsa e una potenzialità sulle quali investire e non un limite nell'appiattimento dell'Europa. Facciamo l'esempio della regione Umbria. Queste priorità serviranno a dare continuità all'azione già intrapresa o vede cambiamenti importanti rispetto nel reagire alla situazione che si è creata con la crisi? Cosa significa? Quali sono gli strumenti nuovi anche che si stanno predisponendo, per esempio per un contesto regionale come il vostro? Sicuramente risorse che devono servire anche ad incidere sui cambiamenti strutturali del sistema, per esempio, delle imprese e delle politiche industriali. Risorse sulla qualificazione del personale umano e anche per sostenere la ricerca scientifica e gli investimenti tecnologici. Risorse che affrontino il tema della coesione sociale che ovviamente in modo particolare, questa è molto diversa da regione a regione in Europa e quindi la flessibilità che poniamo come regione e come città è una flessibilità che va nella direzione di salvaguardare e rendere concreta questo avvicinamento delle regioni europee tra di loro. Un'ultima domanda sulla contraposizione che c'è stata un po' fra il focus sulle politiche urbane e richiamo invece all'attenzione ai contesti rurali che magari per l'Italia può essere uno spunto interessante anche alla luce del particolare mix che abbiamo di queste due aree. È stato posto giustamente un accento sulle politiche urbane, sullo sviluppo urbano, anche perché le città sono i luoghi in cui si concentrano anche grandi sfide dalla cobertà al cambiamento climatico. Però è il rischio di lasciare indietro le aree rurali o le aree di montagna addirittura, quindi aree svantaggiate. Qual è il mix che lei vede anche per la sua regione, alla luce della sua esperienza? Intanto la centralità della questione urbana è una centralità anche sulle politiche dello sviluppo e della crescita, cioè i processi più innovativi e più dinamici hanno a che fare anche con investimenti nella concentrazione urbana. Pensiamo ai centri di ricerca, alle tecnologie, alle imprese innovative. Al tempo stesso noi sappiamo, io pensando all'Umbria, credo che c'è una risorsa Umbria, la chiamo così, che è data proprio dal paesaggio, dall'ambiente naturale, dall'impresa agricola, dalla produzione agroalimentare. Quindi il regolamento, per esempio, generale dei fondi strutturali permette delle novità che io considero positive, cioè i programmi integrati, le azioni plurifondo. Quindi per la prima volta noi possiamo usare in maniera più fortemente integrata i diversi fondi, quello europeo di sviluppo regionale, con il fondo sociale europeo, con il fondo per l'agricoltura, con azioni che non separano più aree urbane e territori svantaggiati, ma mettono a sistema in un vantaggio di crescita e di competitività dei territori e delle nostre regioni. Grazie. Prego. Prego.